Ha pubblicato il suo undicesimo romanzo Vincenzo Bonasera, farmacista per professione e scrittore per passione. Il primo libro risale il 2000, nove anni dopo circa arriva il secondo, per poi raccontare nuove storie con una frequenza sempre maggiore sino ad arrivare all'ultima fatica letteraria dal titolo Strani Amori, scritto quasi in tre mesi. Non si tratta soltanto di amori che i personaggi che sono tutti legati tra loro, tra un villerroge, di amori sognati e non vissuti. Perché si parla di tanti altri argomenti sempre a me cari, quale la natura, la fede in particolare, la vecchiaia, l'infanzia e tante questioni sociali. Parla essenzialmente anche di questo cercando di creare con il lettore un colloquio a distanza. In questo libro faccio una dedica, la dedica alla mia città, che la mia città non è soltanto una ma bensì tre, che io continuo ad amare e amo in tutte e tre in ugual misura, Valle Lunghe dove sono nato, Palermo dove ho studiato e Caltanissetta dove vivo. All'appendice a questa dedica alla mia città faccio un brano di un mio vecchio libro che idealizzo un pochettino quello che potrebbe essere la città e mi chiedo, ma è così la mia città o è come io desideri che fosse? Questo romanzo l'avevo scritto per me stesso, come abitualmente faccio sempre, e non avevo nessuna voglia di pubblicarlo. E' capitato tutto per caso, che un pomeriggio mi viene a trovare Mattia Saia, un grande amico delle mie figlie e anche mio, e mi vede questo manoscritto e chiedendo cosa stessi per fare io lo dico. Allora lui mi chiede, dice dottore me lo dà, me lo fa leggere? Ti tiene, io lo do, dopo una settimana viene e dando il mio stupore e il piacere, devo riconoscere, aveva curato tutta la parte della correzione Bozzi, l'immaginazione che non era facile, aveva fatto un lavoraccio incredibile e allora mi comincia sempre a spionare, dottore lo pubblico, lo pubblico, lo pubblico. Sono passate delle settimane, lui ha continuato a lavorarci perché è una pazienza minuziosa e allora mi sono deciso, stampiamolo ed eccolo dove sta. Il libro, così come è venuto anche in passato, ha un fine solidale, i proventi infatti verranno devoluti alla Lega del Filodoro. L'ho fatto l'altra volta alla Croce Rossa per ringraziare tutto ciò che aveva fatto durante il Covid, che si era veramente prodigata con tanto affetto e abbenegazione. Poi avevo pensato per quest'altro romanzo a un'associazione locale, che ce ne sono tantissime meritevoli, ma non volevo prediligerne una e sfavorire le altre. Allora ho pensato a qualcosa di diverso in campo nazionale. Avevo seguito da tanto tempo la Lega del Filodoro e mi ha commosso e mi ha anche espronato a interessarmi di loro. Il ricavato dunque contribuirà alle attività rivolte alle persone con sordocecità, a chi convive anche con altre disabilità, sia cognitive che motorie, e persino alle loro famiglie, così come spiega Rossano Bartoli, presidente della Fondazione Lega del Filodoro Ollus. Desidero ringraziare il dottor Buonasera per aver pensato alla Lega del Filodoro, quale destinataria dei proventi derivanti dalla vendita del suo romanzo Strani Amori, affermato. Per poi aggiungere, iniziative di solidarietà come questa ci permettono di aumentare la conoscenza della nostra fondazione. Grazie. Grazie.